amici bentornati sul canale 9000 giri elaborazione autosportive oggi vi presentiamo una macchina un particolare raro che ci capitino macchine di questo genere stiamo parlando di una nissan 370z quindi una macchina un coupé di casa nissan ne hanno fatte poche più che altro per il mercato americano questa è una macchina molto particolare dalla linea direi che è proprio una macchina si riconosce in mezzo a 1000 è una macchina che ha un motore un 3.7 v6 la particolarità di questo motore che ha doppia fasatura variabile ed è completamente in alluminio come cavalleria cioè come potenza a oltre 300 cavalli stiamo parlando di 331 cavalli e permette a questa macchina che ha un rapporto peso potenza molto invidiabile perché pesa poco meno di 1500 kg di arrivare facilmente a 250 all'ora è stata presentata nel 2013 e c'è in versione sia rodzer che coupé ed è stata poi introdotta l'anno successivo anche la versione nismo che ha qualche particolarità una trentina di cavalli in più oltre a avere un impianto frenante maggiorato e poche altre poche altre differenze venendo un attimo a quello che ci ha chiesto il cliente per il momento un cliente nuovo che abbiamo appena conosciuto la macchina l'ha appena comprata proprio innamoratissimo di questa macchina quello che ci ha chiesto era di dare un'occhiata generale alla vettura e abbiamo riscontrato che l'unico forse problema da risolvere molto molto velocemente era l'impianto frenante aveva le pastiglie quasi a zero i dischi soprattutto quelli anteriori molto scalinati e quindi in gioco forza abbiamo iniziato dall'impianto frenante questo è un impianto frenante originale Akebono prodotto in collaborazione con la Nissan sono dischi soprattutto gli anteriore sono dischi molto generosi perché sono dischi da 355 mm abbiamo deciso di utilizzare come sempre i prodotti dell'ABC che è questa ditta inglese che ha degli ottimi prodotti sia come dischi vedete appunto quello che spesso vi dico il disco sportivo dell'ABC adesso qua è ancora diciamo abbiamo fatto due frenate per cui sta andando via la parte nera che è una parte di protezione nel giro di 100 km diventerà completamente pulito giusto per farvi vedere hanno delle scanalature delle baffature e hanno delle puntature quindi questo è molto importante rispetto ad altri dischi tipo non so quelli della Brembo che qua sono passanti fuori qui sono solamente puntati quindi questo serve per mantenere sempre ravvivata la superficie della pastiglia in questo caso la pastiglia che abbiamo montato è una ABC mescola gialla quindi non una pastiglia estrema e neanche una pastiglia diciamo turistica diciamo così stradale è una pastiglia sportiva stradale che genera pochissimo pochissima polvere perché è una pastiglia organica e soprattutto la caratteristica che ha un grado di tolleranza come temperatura massima molto elevato e non deve essere messa in temperatura come altre pastiglie di derivazione più agonistica questa qua la prima chiamata la macchina frena perfettamente quindi come dicevo dischi da 355 pastiglie e bissi gialle sull'anteriore il posteriore abbiamo avuto difficoltà a trovare questi materiali perché non è stato semplice per il momento il posteriore abbiamo cambiato solamente le pastiglie e sono ancora questi sono ancora i dischi originali che erano meno problematici degli anteriori abbiamo in ordine quelli dell'ABC che però purtroppo arriveranno nel giro di un mese un mese e mezzo quindi con il cliente abbiamo deciso di fare di iniziare a mettere a posto quello che era urgente le pastiglie posteriore erano quasi a zero il disco è leggermente scalinato ma neanche più di tanto diciamo che il fatto di sostituirlo più che altro per avere un discorso estetico e avere un uniformità tra l'anteriore e il posteriore quindi fra un mese un mese e mezzo quando arriva l'ultima parte completeremo cambiando solamente i dischi posteriori abbiamo cambiato ovviamente l'olio spurgato adesso la proviamo facciamo la prova in strada e oggi pomeriggio la consegniamo quindi direi che un lavoro sostanzialmente dedicato all'impianto frenante ha reso questa macchina per il resto l'abbiamo controllata sotto sopra il cliente ci ha chiesto proprio di fare un check completo della macchina perché deve essere proprio un appassionato di questo voleva questa macchina a tutti i costi ed è ansiosissimo di venire a ritirare perché ovviamente come tutti gli appassionati si vogliono godere la propria vettura gli consiglieremo di fare un po' di rodaggio perché ovviamente non sapendo come guida il fatto di aver accoppiato e questo è un suggerimento che diamo a tutti coloro che mettono materiali frenanti nuovi di fare un minimo di rodaggio circa un 250-300 chilometri in maniera tale da accoppiare in maniera lenta e far aderire le superfici del disco sulla pastiglia senza scaldare troppo quindi una volta fatto il rodaggio questa macchina decisamente rispetto all'impianto frenante originale dovrebbe frenare in maniera nettamente migliore per il momento è tutto come sempre se volete maggiori informazioni potete consultare il sito www.nomenagiri.it all'interno del quale inseriremo anche questa macchina andate a controllarvi l'archivio elaborazione dove ci sono più di 2500 schede vettura mi potete chiamare per qualunque tipo di informazione mi potete chiamare in sede 027383175 io sono lì anche per dei semplici consigli assolutamente siete benvenuti e soprattutto cliccate qua sotto sulla campanella e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo saluti alla prossima